Dopo la morte del giovane runner, il 26enne Andrea Papi, aggredito da un orso in Trentino, si rincorrono i parallelismi tra la gestione dei plantigradi in Abruzzo e in Trentino. Anche se sono due realtà diverse, spiegano gli esperti, in Trentino è molto più alta la possibilità di incontrare gli orsi, mentre in Abruzzo l'orso marsicano si è dimostrato geneticamente meno aggressivo. Tuttavia, il Parco Nazionale d'Abruzzo ha adottato, grazie al suo direttore San Marone, un regolamento ferreo per evitare incontri ravvicinati con animali selvatici. Ma lo stesso direttore precisa, spesso in questi giorni ho sentito dire che il Trentino dovrebbe guardare al modello Abruzzo per la gestione degli orsi. La verità è che noi stessi non siamo affatto arrivati a una soluzione che renda facile la condivisione di spazi tra persone e orsi. Poco più di 50 gli esemplari rimasti nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Io amo tanto gli animali, mi dispiace per il fatto che è successo, cioè lasciamo l'orso nel suo ambiente e magari cerchiamo un attimino di tutelarci, pure se facendo una passeggiata. Secondo lei il modello Abruzzo funziona o no? Ma io dico che funziona a confronto diciamo di quello del nord, perché è strano quello che è successo lì. Quindi qui penso che funziona perché fino adesso non ancora ci sono dei casi gravissimi. Se tu dovessi incontrare un orso avresti paura, cosa faresti? Sì, scapperei, sì, perché comunque l'orso è molto più grande di me. Però ci sono delle regole precise che possono essere consultate. Siamo noi che andiamo a disturbare il loro ambiente, quindi poi dobbiamo accettare che reagiscano in un certo modo. Naturalmente con tutto l'abbraccio e il cordoglio per quel povero ragazzo. Ah sì, sì. Però io mi metto anche nei panni dell'orso che comunque vedersi correre un uomo, l'osso si è spaventato e ha reagito. E pensa che non sia possibile questa convivenza? No. E che si dovrebbe fare, mi scusi, a battere tutti gli orsi? No. No. Per me no. Trovare una soluzione giusta sia per l'uomo che per l'animale. Sicuramente sono molto dispiaciuta per quello che è accaduto a quel povero ragazzo. D'altra parte penso che quello sia l'habitat degli animali selvatici, quindi se entri nel bosco sei consapevole di incontrare un cinghiale, un orso, qualsiasi animale. Anche mio figlio ha fatto un incidente con un cervo, insomma. Secondo lei questo modello in Abruzzo funziona o no di convivenza tra uomo e orso? Beh, sembrerebbe abbastanza di sì. Poi magari bisogna chiedere a chi ci convive veramente, chi ci abita vicino, che si ritrova il pollaio magari mangiucchiato e roba varia. Però si può fare, secondo me. Anche perché, insomma, che ne sa che gli dice alla testa in quel momento? Se lo infastidisci troppo, insomma, può succedere. Io non mi avvicinerei mai e non sono piccolo. Forse l'orso ha paura di me, ma io non ci andrei troppo vicino.